Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti a Verone in via Preare per un incidente stradale. Lo scontro ha coinvolto tre autovetture che per dinamiche ancora al vaglio della pulizia sono entrati in collisione. Una delle vittime dopo l'urto è stata sbalzata sul garrail mentre la seconda vettura è stata tamponata da un terzo mezzo che viaggiava nella stessa direzione. Giunti sul posto con un mezzo e cinque uomini i pompieri hanno lavorato utilizzando cesoi e divaricatori idraulici per liberare uno dei conducenti è rimasto incastrato all'interno del veivolo. Purtroppo nell'impatto una donna di 57 anni e la guida ha perso la vita mentre altri due conducenti sono stati stabilizzati e trasportati dai sanitari presso il trauma center di Borgo Trento. Chiusa il traffico la viabilità durante le operazioni di soccorso che si sono concluse intorno alle 18.